sui 2.275 metri a plan de coroneschi incontro il mesner dei monti rufi che ha raggiunto la cipa più alta qui sopra a brunico per lui il mesner originale per andare a vedere il museo del mesner finto ok un saluto agli escursionisti del trekking gerano e sempre più in alto ciao